Musica Dal 19 luglio al 31 agosto la 25esima edizione di Santa Fiora in Musica Tre giorni di spettacoli itineranti musicali, teatrali e artistici a Sinalunga con Incanta Borgo Presentato il nuovo numero della rivista Enjoy Air Band e Tascana Arcipelago Torna Santa Fiora in Musica Torna il Festival internazionale Santa Fiora in Musica che andrà in scena da venerdì 19 luglio a sabato 31 agosto portando per oltre un mese concerti e musica nel comune in provincia di Grosseto Tra i protagonisti di questa edizione il trombettista e compositore Paolo Fresu che si esibirà a sabato 27 luglio in Eros un omaggio a David Bowie Lo farà in compagnia di un cast stellare con i ritorni al festival di Petra Magoni e Christian Meyer con Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Punticelli Il 27 agosto sarà Santa Fiora Peppe Servillo in Pensieri e Parole omaggio a Lucio Battisti con Fabrizio Bosso alla tromba Al tango di Astor Piazzolla sarà invece dedicata la serata del 13 agosto con l'ensemble Hyperion in Living Tango Considerata la grande attenzione da sempre rivolta all'alta formazione musicale vengono ospitate due orchestre giovanili grazie alla collaborazione con due realtà toscane quali il Campus della Val d'Orcia e la Scuola di Musica di Fiesole quest'ultima svolgerà con i propri allievi uno stage per orchestra e formazioni da camera trascorrendo una settimana di studio nel Borgo Il Festival Santa Fiora e Musica nasce nel 1999 come un campus per ottoni e la programmazione della 25esima edizione rimane incentrata su questa famiglia di strumenti infatti quest'edizione vederà alternarsi i più grandi trombettisti italiani e internazionali attualmente sulla scena Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Marco Toro, prima tromba dell'orchestra filarmonica del Teatro alla Scala Marco Piero Bon, Esteban Battaglian, prima tromba della Chicago Symphony Orchestra Si inizia sicuramente con l'importante collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole con l'orchestra giovanile che faranno due concerti il 19 e 20 luglio oltre ad uno stage di preparazione poi si continua con il 27 luglio con Paolo Fresu e Petra Magoni con un omaggio a David Bowie nel mese di agosto invece il 13 agosto con l'Iperion Tango e il 27 agosto con Peppe Servillo e Fabrizio Bosso C'è tanto entusiasmo, tanta bella gente e veramente la possibilità di portare cultura gratis e di questo livello da 25 anni in questo borgo è una cosa bellissima quest'anno abbiamo il ritorno, il ritorno di grandi artisti di grandi personalità che in questi anni hanno raggiunto i migliori palchi sul panorama italiano e internazionale e poi abbiamo la possibilità di far tornare da docenti anche coloro che un tempo sono stati allievi dei nostri masterclass questo ci fa veramente onore, ci rende orgogliosi e è una bella proposta anche per le nuove generazioni vedere come in un piccolo paese come Santa Fiora si possa respirare così tanta cultura così tanta vivacità e anche tanta bellezza Il Festival Santa Fiore in Musica è uno degli eventi di maggior richiamo dell'estate santa fiorese commenta il sindaco Federico Balocchi un festival che nel tempo si è evoluto abbracciando diversi generi musicali accontentando un pubblico sempre più ampio e eterogeneo Sono davvero felice di poter ospitare Santa Fiore in Musica in Consiglio regionale 25 edizioni che danno il segno della qualità di questa rassegna che dal 15 di luglio al 31 di agosto renderà uno dei borghi amiatini più belli della nostra regione un palco a cielo aperto, luogo di incontro, luogo di socialità investire in musica, investire in cultura vuol dire investire in libertà e ogni iniziativa di questo genere deve avere la voce più alta possibile hanno il compito di far conoscere questo evento ed è un modo anche per andare a conoscere, a visitare durante l'estate uno dei borghi più belli della nostra regione Facciamo questo 25esimo festival internazionale Santa Fiore in Musica quindi torna la grande musica, grandi nomi negli scorci e nelle parti più belli del nostro comune di Santa Fiore del borgo storico di Santa Fiore si va dalla musica classica, alla musica contemporanea al tango, veramente abbiamo quindi una musica per tutti i gusti per festeggiare questo 25esimo festival quindi grandi collaborazioni con orchestre con la scuola di musica di Fiesole da quest'anno quindi un tocco di internazionalità, di musica d'autore nel paese di Santa Fiore che è uno dei borghi più belli d'Italia È tempo di Incantaborgo Torna Incantaborgo dal 19 al 21 luglio la rassegna di spettacoli itineranti musicali, teatrali e artistici che si sviluppa nel borgo medievale di Sinalunga tra gli eventi collaterali al festival il mercato artistico e artigianale mostre fotografiche e street food visite guidate alle principali attrazioni del centro storico come il teatro Ciro Pinsuti le stanze etrusche di L'Art i cunicoli sotterranei delle fonti del Castagno la chiesa di Santa Croce la collegiata di San Martino negli anni della manifestazione ha assunto sempre più un aspetto internazionale sia perché ospita artisti di diverse nazionalità sia perché diventa momento di scambio culturale, artistico ed enogastronomico con le città gemellate di Eschampagne e Dorking il festival presenta eventi di livello internazionale lo spettacolo di fuoco Flame Circus fontane danzanti, acrobazie subisce e calcio freestyle la marching band l'energia, i colori e i ritmi del Brasile con Brasil Carioca Dance e accresceranno l'incanto del festival anche performance musicali, di danza, di ginnastica ritmica un momento di festa non soltanto per i più piccini dal 19 al 21 di luglio in Cantaborgo rende davvero Sinalunga un luogo unico un luogo magico un luogo speciale dove potersi incontrare poter vivere l'arte di strada poter costruire insieme momenti di grande socialità un modo per visitare anche uno dei borghi più belli della nostra regione un modo per aprirsi e per fare in modo che il turismo della nostra regione non sia solo nei grandi centri urbani ma possa andare anche nelle aree più interne quelle che hanno bisogno di una voce più forte la voce della regione Sinalunga si contraddistingue in questo periodo dell'anno per l'incantaborgo che è una manifestazione nel nostro territorio inusuale proprio perché offre spettacoli che non si vedono abitualmente ecco quindi questo è anche l'invito che facciamo perché gli artisti di strada comunque riescono ad emozionare in maniera particolare essendo uno spettacolo improvvisato anche se dietro c'è molto lavoro nel contesto del centro storico insieme agli spettacoli la possibilità di visitare il borgo di Sinalunga che è un bellissimo borgo medievale che apre le porte sia alle chiese al teatro a tutte le stanze etrusche a tutte le attrazioni che ha a livello culturale ed è la possibilità di conoscere un luogo che però è ambientato in un contesto che non è usuale quindi è assolutamente diverso ma piacevole e che richiama tantissime persone ma non solo la cosa bella come accade nelle comunità più piccole è il coinvolgimento delle associazioni oltre 200 persone che collaborano per la realizzazione dell'evento ecco e questo dà proprio il senso della comunità per la realizzazione di uno spettacolo culturale bello itinerante e che offre qualcosa di diverso un festival che nel mese di luglio accompagna la vita della nostra città con presenze locali e nazionali ha detto il sindaco di Sinalunga e Dozacchiei che si fonda sull'arte degli artisti di strada come ogni anno oramai il terzo fine settimana di luglio riproponiamo questa iniziativa questa fantastica manifestazione che ci accompagna oramai da anni oramai radicata nel territorio siamo entusiasti di riproporla ancora una volta perché poi oltre ai cittadini che ce lo chiedono è diventata una manifestazione di risonanza diciamo regionale anche interregionale quindi richiama persone migliaia di persone insomma anche dalle regioni vicine insomma è una manifestazione che ha i suoi fondamenti su quello che è l'arte degli artisti di strada quindi facciamo parte di questa organizzazione insomma e quindi ci fa piacere ospitare nel nostro borgo insomma degli spettacoli importanti diversi dai classici spettacoli e dai classiche manifestazioni quindi nel fine settimana il 20 e il 21 di luglio prossimo questo mese qui insomma quindi potremo andare a Sinalunga dal tardo pomeriggio fino a tarda notte insomma il paese il borgo si colorerà insomma di luci immagini spettacoli fuochi insomma tutto quello che rende magica anche l'atmosfera insomma delle serate estive la rivista sull'Elba e l'Arcipelago Toscano l'Elba e le isole dell'Arcipelago Toscano hanno molto da raccontare oltre alla bellezza dei loro paesaggi alla ricchezza dei loro approdi le isole di Toscana sono molto di più delle loro spiagge e del loro mare sono un'esperienza unica scrigni di cultura di saperi di tradizioni di mestieri di persone che le hanno abitate e che le abitano sono luoghi con identità ben radicate con storie millenarie da raccontare con borghi e frazioni da scoprire con un patrimonio geologico e naturalistico unico e irripetibile la rivista Enjoy Elba e Toscano Arcipelago è nata sette anni fa per raccompagnare il lettore in questo viaggio di scoperta e di emozione simile a una guida ma anche raccolta di racconti e testimonianze il suo target non è solo quello turistico sono davvero felice ed orgoglioso di poter presentare in consiglio regionale la settima edizione di Enjoy Elba e del Toscano Arcipelago è un modo per raccontare non solo quanta bellezza c'è in quel territorio che non è solo un territorio di mare è un territorio di terra di terre è un territorio di lavoro che vive quattro stagioni l'anno noi conosciamo questa terra per la bellezza per i tanti turisti che riescono a viverla durante l'estate ma l'Elba e l'arcipelago della costa toscana è molto di più è un territorio che produce grandi qualità enogastronomiche è un territorio che produce vini di qualità è una terra che è in grado di esportare in tutto il mondo orologi tra i più pregiati l'Elba è qualcosa di più del mare e ringrazio la direttrice per il grande lavoro che sta portando avanti in questi racconti ci sta la fotografia di una terra da esplorare Enjoy Elba che non è soltanto una rivista non è soltanto una guida è un volume in cui si fa approfondimento in cui si respira quello che è l'arcipelago toscano perché di tutte le isole dell'arcipelago toscano si parla si fa approfondimento si parla di storia di cultura di enogastronomia di paesaggio quindi una rivista degli articoli da vivere da leggere e anche da sentire per scoprire al meglio la nostra magnifica isola d'Elba ma tutte le isole dell'arcipelago quindi è un messaggio promozionale però che ha un contenuto anche importante e che dà una continuità anche di promozione per il nostro arcipelago che non può che rendere la nostra toscana orgogliosa delle bellezze delle nostre isole l'aspetto sociale l'attenzione per le persone le buone pratiche la collaborazione con enti del terzo settore il sostegno a progetti di sviluppo sostenibile la narrazione del territorio e della filiera agroalimentare ed enogastronomica sono il filler rouge degli oltre 90 articoli suddivisi in 5 argomenti principali culture e arti ambiente accoglienza food and wine lifestyle l'arcipelago quest'anno in particolare il tema principale è quello delle radici e della memoria siamo al settimo numero è stata un'esperienza molto bella una rivista che è nata un po' per caso un po' per amore e è stata fin dall'inizio una sfida perché abbiamo raccolto intorno alla redazione delle professionalità delle passioni tante persone che hanno comunque voluto collaborare con noi per creare un prodotto che raccontasse l'Elba e le isole di Toscana proprio da sotto tutte le varie sfaccettature come se fosse un ricchissimo caleidoscopio di immagini e soprattutto di argomenti infatti sulla rivista parliamo di tutto di cultura di arte ma anche quello che è il lifestyle le tradizioni gastronomiche il food la produzione del vino quindi cerchiamo di creare uno spaccato di queste isole raccontandone la bellezza ma soprattutto la ricchezza da tutti i punti di vista ci abbiamo provato anche quest'anno e speriamo di poter continuare anche nei prossimi siamo qui per presentare l'edizione 2024 di questo magazine che parla di comunità parla di profumi colori sapori parla di un'identità molto forte dell'isola parla a tutti non solo perché è in italiano in inglese ma anche perché è scritto da persone veramente appassionate e con gli occhi di fotografi incredibilmente capaci di emozionare e diretti da Patrizia Lupi straordinaria come sempre per raccontare tutti gli angoli più straordinari e le occasioni le esperienze più straordinarie che all'elba si possono vivere raccontarla anche a chi ci vive non soltanto a chi la visita proprio perché la missione di Simtour è quella di generare opportunità di turismo che consentano di far incontrare le comunità locali con le plurali comunità dei viaggiatori che oggi sono sempre più alla ricerca di una interazione e di una cittadinanza temporanea vogliamo dire con i luoghi La vetrina toscana è con Enjoy Elba dalla prima edizione perché l'abbiamo presentata insieme appunto per raccontare anche l'enogastronomia oltre che il meraviglioso mare dell'arcipelago toscano e anzi quando è nata proprio raccontava solo l'elba e poi si è allargata a raccontare tutto il bello e il buono che c'è nell'arcipelago toscano la vetrina toscana è il progetto sul turismo enogastronomico della regione e quindi ovviamente il connubio è naturale e quest'anno abbiamo raccontato diciamo la cucina per chi va in barca per cui abbiamo raccontato Happy Boat in Toscana che sono delle ricette appunto che si possono fare in barca e quindi un approccio lato mare alla nostra bella costa